Un'esperienza fantastica, non è la prima che faccio, questo è stato un altro tassello che si è unito a tutte le altre esperienze, quindi fantastica. Mi porto tutto ciò che ho visto, ciò che ho vissuto e le esperienze che ho fatto e poi un gruppo fantastico che ci ha seguito e anche il team che è stato grandioso a organizzare tutto. Sicuramente inizi un percorso e questo ti aiuta veramente ad aprire la mente e il cuore alle varie esperienze che non ti sei permessa di fare prima, perché prendi una consapevolezza diversa. Prima avevo iniziato un cammino, adesso credo di aver raggiunto un obiettivo, ho molta più chiarezza su quello che devo fare adesso che torno a casa. Adesso mi sembra possibile qualsiasi cosa, dopo le cose che ho superato qua, credo che niente più possa fermare, nessuna situazione mi possa fermare. Cambierò molte cose nella mia vita, un'esperienza da fare, perché sicuramente ti fa crescere. Patrizia mi ha fatto anche superare la mia paura all'acqua e quindi io non posso che ringraziarla anche perché la sto seguendo da parecchi anni, ho fatto tanti passi assieme a lei e quindi non posso che dire grazie, 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 grazie e anche a tutti voi.